Sicurezza e libertà. Senza sicurezza noi non abbiamo libertà, non abbiamo investimenti e questo è il motivo per cui è dovere della politica e del governo investire sempre di più sulla sicurezza e sulla formazione dei nostri uomini e donne in divisa. E per investire ci vogliono soldi. L'ultima legge di bilancio prevede 100 milioni di euro l'anno per 10 anni per le dotazioni di risorse umane e mezzi per la Polizia di Stato. E mentre il governo lavora sulla riforma anche della Polizia locale, il sottosegretario agli interni, Nicola Molteni, traccia Pescara quello che dovrebbe essere il nuovo rapporto tra Polizia e territori. Fine ultimo, legalità. Per questo governo ci sono aperture di presidi di legalità, investimenti e risorse per rafforzare il comparto sicurezza-difesa. Il sottosegretario definisca per favore presidi di legalità. I presidi di legalità sono degli avamposti di legalità. Sono dei luoghi dove si garantisce sicurezza. Ogni presidio di legalità che viene tolto dal territorio è un incentivo alla criminalità per avanzare. Lei parla di commissariati, di posti, punti di polizia, punti... Io parlo di strutture fisiche all'interno delle quali ovviamente ci sono uomini e donne che sono un orgoglio del Paese. La Polizia di Stato è la migliore polizia al mondo. Ma prima che tutto accada, la Polizia Pescara deve fare i conti con i numeri. E i conti non tornano. Nell'ambito della provincia, vi conto che anni fa eravamo 750, ma lei deve contare che in ambito nazionale ogni anno vanno via, compreso quest'anno, 5.000 persone. Solo la quest'anno vanno via 30. In tutta la provincia sono 52. E ogni anno è sempre peggio. Grazie.